La borsa Oli della linea Rebel Atelier Dussac è realizzata in ecopelle effetto matelassé, ricca di impunture e borchette che ne definiscono la forma. Si chiude con una clip a scatto automatica. L'interno è foderato e impreziosito da due scomparti, una tramezza con cenni e una lampo, una tasca chiusa con zip per riporre il portafoglio e due taschine di cortesia per smartphone e chiavi. La tracolla in catena si regola in lunghezza per indossare la borsa a spalla oppure di traverso.